Enrico Cester, un'altra vittoria ma stavolta molto sofferta davvero contro una Padova che ha giocato bene ma credo ci siano molti demeriti vostri in questa gara. Sì, c'è da dare soprattutto merito a loro per una partita giocata veramente bene di alto livello, qualche demerito nostro c'è logicamente perché abbiamo battuto sotto le nostre aspettative, abbiamo fatto tantissimi errori, però alla fine partite così combattute ci possono anche stare, questo è il bello di questo campionato di alto livello, però portare a casa il risultato è stato più importante. Diciamo che la cosa migliore stasera è stato proprio il risultato alla fine. Sì, questo è l'importante, i tre punti logicamente facevano più gola, però anche i due vanno bene a questo punto perché come stava andando la partita va benissimo. Dopo il 2-1 sembrava la partita in pugno, invece Padova è stata brava, va un po' sorpreso no? Sì, ma lo sapevamo che loro sono una squadra che non mollano mai, anche se sono sotto, come è capitato in questa partita 2-1, hanno tenuto botta, ci hanno ripreso e hanno portato a casa un punto. Una lube che dovrà crescere però in questa settimana perché adesso arrivano le partite davvero ancora di più alto livello. Adesso arrivano le partite che contano, già mercoledì contro Perugia, poi andiamo a Milano e lì sì, ci sarà da lottare. Grazie.